salve a tutti amici artisti con questo video cominceremo la serie di minecraft che posterò nel canale una volta a settimana mi farò aiutare da Daniele perché solitamente ho giocato sempre sull'iphone ma sul pc è un po diverso e quindi farò aiutare da lui non perdiamoci in chiacchiere partiamo con la costruzione del mondo che hai chiamato mariland youtube ok comunque la giochiamo con l'optifine perché ci da più fps quindi eccoci qua allora il mondo è stato appena generato facciamo una panoramica per guardarlo che siamo capiti bene è bello molto rapido guarda la panoramica quando gira come è rapido e comunque ti da 30 fps al secondo non è una cosa bruttissima comunque ci teniamo a precisare che il programma che usiamo in pratica c'è dura solo 30 secondi quindi vedrete molti dati in questi insomma rompo i coglioni infatti in questo momento non sto guardando mari ma sto guardando il cazzillo rossi ecco questo è il baule bonus puoi aprirlo c'è nel senso che te lo regalo in gioco e cazzo cominciamo bene allora queste togliamo yes torce del diavolo boom in fuoco ok apri la cesta dicevamo apri la cesta e prendi tutto ok ora spaccano il culo no con l'ascia ok ascia sta eccola qua allora ci serve la legna 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 diciamo appunto eh sì quest'albero così si è generato così senza secca ok vabbè dicevo prima poi c'è qualche ciucco eh niente ci diceva un maia un cazzo del salmone dove è finito hai sparito il salmone chi se ne ha mangiato questa vacca e la mucca del cazzo ok dobbiamo guadare dobbiamo guadare guadiamo oh my god ok eh eh ecco che vedrai ehi eva che mi abbr hannown si allora uccidi una wak una wak una wak bam mh la wak non scappare vacca del diavolo ecco qua ehm nessun animale è stato maltrattato in questo video eh proprio bella questa e devo cazzo doppia pausa e cazzo p eh...! eh voi dicendo parole minima agi di parole ecco qua, ma ancora legna no, c'è una legna, tanta legna, a giallo a stai o a giallo a coppa aca? e sennò puoi spostare a posto di... no la giallo a proprio putaste, la giallo a coppa da stile, a posto di io ti mettiamo R io volevo proprie dobbiamo fare una sedizione per Mari per mettere... togliere l'E dalla stile e che non serve un cazzo l'E, no, parola senza E che ce ne porti, e di? la torta la E, devo fare un video l'incubo della E devi saltare Anna Giulia cazzo cazzo non mi saltare, ho messo qualche altra pecore la Lusilli la Lusilli giusto per sfogare la rabbia pecora, pecora, pecora vabbè in realtà ti serve, quindi ammazzalo, devi prenderti tre pecore possiamo occupare qualche pecore si, va a occupare tre pecore pum ne mancano altre due mi stavo imbottigliando nell'erba questo è il tuo obiettivo vabbè le pecore stavano di là anche le vacche? ecco qua sempre nessun animale è stato una fetta di carne, questa è sempre buona tu non guardare però dove sei no, maiali ci servono maiali servono maiali servono? che cazzo ma fa? perché sono nel senso sono difficili da ah ecco ok, quindi andiamo per le vacche e le pecore si, però non la uccidere questa vai di là la stavano parecchie pecore ok, abbiamo preso i tre pecore si, l'anessi è fatto notte ma prendi la questa la cosa la crafting la cosa la cosa c'è anche la cosa in questa cosa c'è anche la torcia umana ma c'è la cosa? si, prendi la cosa e piazza nella nella vegetazione in posto cazzo dobbiamo mettere con un altro tasto eh cazzo non ci riuscivo ma lo mò clicca la che ho l'altro tasto ok metti tre pezzi di lana sopra e qua vabbè ho mille lavorative no, non metterli qua devi metterli uno qua uno qua uno qua e con un tasto sinistro uno due e tre e poi metti ah no ora ci serve niente aspetta te gli faccio un attimo un piccolo poi un piccolo ancora pecore ok ok abbiamo fatto un letto si però il letto è un romu eh si in mezzo all'erma in mezzo a un campo in mezzo ci serve una sorta di riparo un rifugio i primi video sono sempre di merda già sei stato culato che ah prendi il letto ok piazzalo col tasto sinistro a terra dove cazzo sta? piazza mettiamo qua yes oh cazzo cazzo ammazzalo io ti ho buttato corri 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 cazzo scappiamo gira tira gira gira tira è facile è facile ragazzi che un appassionato come me di walking ddead come mio che deve fare il culo allo zombie muori zombie di merda no però usa lascia ce la faccio con le mani usa lascia fai prima e ma questo è un piccolo piche si ma hai fatto di piccone Ma che zombie del cazzo Ma ce la posso fare anche con le mani Si può abbattere con le mani Solo che così ci mettiamo tre e tre Una settimana Aspetta lo fai così Un altro zombie del cazzo Ok mo la ammazziamo E guarda si muove Vai Mari ce la puoi fare Ok mo c'è Creeper Vabbè è successo un cazzo Allora facciamo che Dormi ok Ma vuole il creeper qua porco giù Ah bemo a bruciare all'inferno Oh vabbè stai ancora là E fai che Ok dappiamo un attimo Sti voraggini No ma le tappi Senza che le tappi da così Vai qua Ah così Tanto non c'è gravità in minecraft Ok Sembra il tasto E È da morire Io penso che lo slogan del cane di minecraft è il tasto E Mariano è il tasto E Allora per vedere quando puoi piazzare il blocco esce il contornato Vedi Come odiare il tasto E Ecco qua E poi era uscito guarda Eh vedi vedi Ok Ecco qua Ok abbiamo finito la scella Non c'è un cazzo Quindi basta Fa ancora le buche Prendiamo un po' di semi Andiamo e ce ne ho Un po' di semi Andiamo da queste parti No vabbè devi spaccare l'erba Capito? Ah ecco Ok 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 secondo sei Vabbè per il momento prendi ne tre Pur tre e quattro Ma tu basta che tieni premuto e spaccare E spaccare la raffica Ci spacca anche la pecora No do lì no do lì è nera Non la mettiamo a pecora Una pecora a pecora Un'altra pecorina Oh cazzo che faccio quella cosa Di là Cazzarola Oh cazzo Qua c'ho Un relitto E un cazzo di relitto Cioè vi tende Di barca Di nave Che cazzo Quindi fa presumere che l'acqua magari arrivasse fino a qui Roba del genere è stata tirata su Fai una cosa Prova a spaccare questi blocchi qua Sotto c'è la sabbia Queste sabbia terra E prova a spaccare Perché penso che ci sia Una cesta Penso Solo quelli di sotto Sì sono quelli di sotto Vai più vicino Sempre L'altro tasto Magari Dicevi vedi il blocco di sabbia terra Guarda vedi Non mi pare che ci sia altro La lasciamo così integra Intiera Sì vabbè poi Allora vai così E' un peccato sprecato E' comunque un bel Questo posto è fantastico C'è stanno quasi Tutti i biomi E qua c'è anche un cazzo di fungone Guarda Un fungo gigante Comunque la Optifine è troppo bella Perché vedi Vedi questi blocchi così no In pratica sono per la Grazie alla Optifine L'erba in pratica va più fino a giù Ah è bello Infatti è bellissimo Infatti se ci fai caso pure gli alberi Sono No ma è proprio bello è vero Abbiamo avuto anche culo dai Sì abbastanza Col fungo gigante Così ci alluciniamo Allora Un altro po' di semi Eh sì prendi un altro po' di semi E poi li piantiamo E piantiamola Comunque avete visto il Minecon Il Minecon Earth dove hanno presentato la 1.14 Dicevo se avete visto il Minecon Earth Avete visto anche la presentazione della 1.14 Ma questi Li di camomilla per calmarci un po' Eh vai prendili Ti ingiamo il letto Guarda Ma ci facciamo una camomilla calmata Guarda che cosa bellissima Allora vai avanti Vai dal letto Dal letto Dal letto Il letto ci aspetto Sta di qua Dove cazzo sta? Tu basta che tieni di riferimento Questo pezzo enorme di costo A me fa un palo Vabbè poi nella prossima puntata Ci piaceremo un cazzo di palo Una casa Una palafitta Allora Spacca il letto Oh non l'ho fatto E che cazzo vuoi? No Ti fai eh Oh mannaggia il le della madonna Bene questo video non sarà monetizzato No no YouTube mi bannerà Mi caccerà Dai sai Spaccalo Eh Mo prendilo Non conee No ma di odio Mo puoi usare eh Metti il letto Prendi io uno di questi Una camomilla Mettila qua Qua Guarda colorante Eh Prendi una Ok mettiamolo No mettila qua Così Questo spostalo Qua pure Ok Prendi questo Il letto Il letto Qui È sicuro Il letto di giallo Dovrebbe essere sì Ua strafico Vai prendila Mettiamo qua No mettilo qua Lo ripiaci Dove stava Ah ecco Ok Stare boccello Ok Piaccio Grande Ah beh Magari Lo fare Ma anche Di qualche altro Colore facciamelo parlo, quattro cicli, dormitorio ah sì comunque dicevo io a marini farò fare il video sullo snapshot appena uscirà appena uscirà niente cioè in pratica sì, io mi aspettavo il kpop date però non è così vai più leggero con i termini perché non ne conosco quanti sei troppo esperto un giorno imparerai un giorno molto lontano spacca qualche alber ah prendi sei mesi appena presi sei apposta seminiamo qualche pecora andiamo nella cosa crafting cosa crafting questa scatola qua questa scatola allora fatti una vai a zappare allora vedi no questa non è una zappa, è un piccone qui dicevo dicevo facciamo buone ah voglio ok e zappa fatta ora devi solo andare a zappare vergognati e quando mai ah cioè prendi i semi ok ma zappa semi allora allora qua c'è la zappa ok mo devi andare a zappare mo ci dobbiamo scegliere una zolla di terra dove zappare eh no il problema è che ci serve l'acqua ci serve il ferro per fare un secchio d'acqua quindi per il momento vedo questa è relitto tre blocchi di terra a piacere sì a piacere così qualunque essi siano tre ok a posto mo prendi apri l'inventario e di ammagin apri l'inventario no inventi questa volta devo fare la E finalmente posso fare la E ok ea mo nella terra mettite l'acqua a posto del qui posso a posto del tubero questo è un tubero allora mo vai la dove sta in relitto corri devi tenere premuto blocco maiuscolo e v ah ok no ma non corre però non corre cazzo perché non corre ah è sì è vero la fame si è tutto il cazzo eh no è la fame la fame la fame è la fame è la brutta bestia la fame allora mo vai vicino a relitto cioè dove sta la sabbia no cazzo è un po' di sabbia che cazzo ci serve eh no ti va qua vai giù qua giù vai giù spacca che c'è l'acqua è un'alga è perché nella 1 a 13 no è l'acqua di cammino ah questa per esempio no no questa è qua vicino all'acqua quindi spacca questi tre tre blocchi uno due ok e che cazzo ci serve quando ti va qua metti questi qua ok mo piazza i blocchi al posto della terra abbi fiducia si abbi fiducia e dormi ecco qua ah puoi per farti luce di e te ecco vabbè fa niente mo prendi la zappa vai a zappare tasto a sinistro uno su uno due tre tasto a sinistro sinistro questo questo è tasto a sinistro questo è destro e io ti ho detto sinistro ok io ho fatto il sinistro no eh no era solo sto registrando allora adesso ah si guarda mo si sta facendo notte la optifend ti da anche questo guarda la torcia te la metti qua e ti fa luce ah ecco allora questi blocchi di sabbia ci possono servire? si prenditele basta che non salti sopra ah ho capito ho capito wow comunque sono bellissimi sono bellissimi pure qui di sottospecie di tori eh quelli nuovi si stupendi ma sembrano tori a tutti gli effetti penso che siano tori dei villager ma comunque ci sono molte novità tipo come i gatti ma si è riuscita i gatti veri e propri i panda si perché i gattopardi che erano quelli gattopardi si vengono gatti eh invece invece no i gattopardi diventano gatti quando li te e quando li c'è li ti ricordi sui cellulare quando mettiamo quei gattopardi in un casino si ci fa il mondo ma mi è incasinatissimo guarda noi dobbiamo portare pure una serie su piede in modo che lui riesce a giocarci meglio ma la grande dai l'ha fatto costruzioni notevole eh quello è vero diciamo la vera se riusciamo mettiamo anche una foto Taj Mahal piramidi se ci riusciamo in questo video vi mettiamo una foto delle costruzioni che abbiamo fatto è una statua in memoria di Salvatore un sacco di cose mi pare addirittura una luna eh poi abbiamo fatto il Jurassic Park eh il Jurassic Park i girani che se no stanno in zombie eh si è fatto buio quindi può darsi che ci sia quindi mo sali e torna a dormire con un letto sfacione no c'è il letto giallo eh mi sa che mi conviene a armarmi di piccone perché sicuramente no di acce di acce ascia ok ma potremmo metterti vabbè ok stiamo andando a dormire esatto il letto dove sta il letto ok per la gioia di YouTube dei soldi siamo arrivati a 10 minuti di video e quindi andiamo a dormire è il caso è il caso andiamo con una torcia e nella prossima ci vediamo nella prossima nottata bye bye settimana prossima nuovo video che costruiamo la casa al prossimo video bye bye